Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video. Oggi sono qui per portarvi di come approcciarvi al competitivo nel 2021. Penso che sia un video molto interessante per qualcuno di voi e spero vi piaccia. Quindi vi lascio il video e buona visione. Il primo punto ragazzi è partecipare agli eventi. Dovete entrare nel giro e con entrare nel giro intendo proprio cominciare a giocare tutti gli eventi che trovate. Cercando di giocarli sempre al meglio e non preoccupatevi se non ci sono premi in denaro o altro. Ogni torneo è un'occasione per farsi notare e tutto fa curriculum. È quindi necessario giocare sempre bene ogni torneo? La risposta è semplice ed è sì. Definiamo prima però cosa intendo per bene. Perché con bene ragazzi intendo il giocare ovviamente al meglio delle vostre capacità. Ma con senso. Ad esempio a volte potreste giocare un round in torneo solamente per vedere se alcune vostre strategie funzionano. Se i vostri modi di pushare sono efficaci e tanto altro. Sicuramente è vero che sono quasi tutte cose che si possono provare in allenamento, in arena, in custom. Però contate che non tutti abbiamo lo stesso tempo a disposizione. Quindi ragazzi i tornei che non giocate per vincere, quelli che non giocate al meglio, usateli come allenamento per provare le vostre strategie. Il secondo punto molto importante è avere o trovare una cerchia di amici con i vostri stessi obiettivi. Questo è fondamentale per continuare a migliorare. Mettersi a confronto, criticarsi e crescere insieme a persone vicine a noi è il secondo miglior modo per scalare velocemente le classifiche e migliorarsi. Se non avete degli amici con i vostri stessi obiettivi vi consiglierei di cercarvene qualcuno, oppure di provare ad entrare in un team. Non importa che entrate nei phase ovviamente. Per imparare a giocare basta cercare qualcuno che ha un po' più di esperienza di voi, giocarci assieme e cercare di imparare il più possibile. A tal proposito vi devo dire che a breve riapriremo i provini per il team RFX. Quindi se foste interessati vi consiglierei di seguirmi su Instagram, YouTube e Twitch. Trovate tutto in descrizione. Così da sapere quando si terrà il tutto. Il punto 3 ragazzi riguarda il trovare un team. E il piazzarsi bene negli eventi sarà fondamentale per cercare di essere notati appunto da questi team. E vi servirà anche per trovare persone al vostro stesso livello. Perché se voi avete una top decente vi sarà molto più semplice diciamo mandare un messaggio a qualcuno che ha una top dei risultati simili ai vostri. E diciamo cominciare a giocarti insieme. Anche solamente per provare a farci qualche partita. È difficile che qualcuno abbia la pazienza di giocare o di portare al livello di competere delle persone che non hanno neanche provato a partecipare a vari tornei. Quindi è per questo che molto spesso e volentieri la gente abbia diciamo dei requisiti nelle persone che cerca con cui fraccare. Il quarto punto che vi può aiutare ad approcciarvi al competitive è quello di guardare i pro e altri streamer o content che trattano il competitive. Per cercare di imparare le strategie che usano per far bene nelle varie competizioni. A tal proposito vi suggerirei di seguirmi su Twitch. Perché quando mi vai internet c'è la possibilità che streami qualcosa. Quindi se voleste passare anche solamente per farmi qualche domanda. Se non sto giocando un torneo e posso sarò lieto di potervi rispondere. L'osservazione ragazzi sarà fondamentale. Non basta vedere. Fatevi anche qualche domanda mentre guardate questi stream. Cercate di capire il motivo per cui facciano una determinata azione. Perché di solito dietro ogni azione di un pro c'è un motivo. Quindi cercate di imparare. Sia che siano skill per fightare sia per rotazioni intelligenti. Per cercare di capire come le persone ruotano ragazzi però vi consiglio caldamente di guardare. Live o registrazione in live perché altrimenti non riuscirete a carpire come avviene la rotation. Perché di solito i pro appunto schippano queste cose nell'oralize. Mettendo solamente in risalto le kill. Il punto 5 ragazzi è qualcosa di estremamente personale. Ed è sapere i propri punti di forza. Abbiate un punto di forza nel gioco. Sapere in cosa siete più bravi vi servirà per affermarvi e identificarvi come player. E trovare persone che hanno bisogno di qualcuno come voi. Per rendere il team più completo. Quindi è molto bene conoscersi e sapere appunto in cosa siete forti. Pensateci se non l'avete mai fatto. E migliorate il più possibile su questo aspetto. Il punto 6 ragazzi è allenare le meccaniche, la mente e tenersi a passo con il meta. Se non sarete in grado di soddisfare questi tre punti. È difficile che ce la facciate ad avere successo come player competitivi. Vi farò semplicemente qualche esempio per rendere l'idea. Senza scendere troppo nel dettaglio. Se non siete in grado di fightare non riuscirete a vincere i fight. Se non avrete la confidence di vincere aumenterete le probabilità di perdere il fight. E il non tiltare sarà essenziale per continuare al meglio e provare a ribaltare la situazione. In un torneo in cui l'unica cosa che vi sembra di vedere siete voi che venite headshot snippati. Quante volte vi sarà capitato? Cavolo sono morto, ora è il prossimo game. Ma che cavolo? Poi pushate, siete arrabbiati, morite sciocchi, vi arrabbiate ancora di più, quittate. Di solito è così che funziona. Quindi avere appunto la confidence di poter recuperare e vincere. Nonostante magari avviate avuto un brutto game. O anche due brutti game di fila. Non vi deve fermare e non vi dovrebbe fermare. Tenersi a passo con il meta invece è fondamentale per essere avanti a tutti e per capire al meglio tutti i movimenti degli avversari. Per sfruttare e carpire al meglio le informazioni che il gioco vi sta passando. Cosa voglio dire con ciò? Se non conoscete un nuovo exploit e vedete uno davanti a un box che sta facendo cose strane. Sarete molto svantaggiati. Perché magari lui farà il trick di Martos che si mangia il cristallo e vi salta all'indietro mentre guarda all'altro lato del box. Voi editate e lui vi spara in testa col pompa del drago. Queste sono tutte cose che uno deve sapere. La sabbia è tornata ragazzi. In arena, nel competitive, nei tornei. Quindi state attenti. Se passate davanti a due fosse dove vi sembra ci sia una talpa. Non c'è una talpa, ci sono due persone che vi pomperanno. Quindi sfruttate il meta. Se non vi piace la sabbia e non la usate. Siete indietro con il meta. Perché il meta ragazzi è la sabbia in questo momento. Cioè ruotare usando la sabbia è molto intelligente. Soprattutto se riuscite a farlo senza farvi beccare. Vi fa risparmiare un sacco di mazza. Nonostante possa essere uno mosso subdola. Camperare sotto la sabbia. Sicuramente è qualcosa che aiuta un sacco. E se non vi deciderete a sfruttare il più possibile. rimanete indietro col meta. Come è stato per le macchine. Come è stato per il pompa nuovo. Come è stato per tante cose. Ogni cosa ragazzi nuova va imparata a usare il prima possibile. Perché vi dà la possibilità di scegliere se fare la cosa o meno. Però già il sapere come funziona. Vi aiuta a capire cosa fanno anche gli altri attorno a voi. Vi faccio un ultimo esempio. Che è il notare che un avversario usi dei flopper. O abbia pesci nell'inventario. Questo magari l'altra settimana. Sarebbe potuto essere un indicatore. Per dirvi che quel team o quella persona. Avesse un pesce rift con sé. Capire questo tipo di informazioni. Potrebbe farvi risparmiare le vostre mobilities. Così da tenervele per dopo. Ora purtroppo non ci sono più. Tutti questi strumenti per muoversi. Però questo video spero rimanga. Diciamo anche più avanti. Se magari torneranno. Questi tipi di mobilità. Ovviamente questo è un esempio. Ed era incompleto. Ma era per farvi capire il senso. Della cosa. Quindi prestate attenzione. E sapere come funziona il gioco. Sapere come funzionano i movimenti. Sapere come funzionano le nuove meccaniche. Sono tutti elementi che vi faranno capire meglio. Cosa sta succedendo intorno a voi. Il numero 7 ragazzi è buona pratica. Allenarsi è importantissimo. Ma allenarsi bene. Lo è ancora di più. Essere in grado di sapere cosa allenare. Quando e come allenarla. Sono delle caratteristiche. Che distinguono i player. Che fanno sempre bene. Da quelli che non hanno la stessa costanza. Nei risultati. Cercate di allenarvi in custom. Laddets. Creativa. Arena. In base alle vostre esigenze. Quindi è importante sapere cosa dovete allenare. Così da poter ottimizzare al meglio il vostro tempo. E ottenere ovviamente i migliori risultati possibili. L'ottavo punto ragazzi. E' fare i vod review. Dei propri game. E errori. E prendere attivamente note scritte. O mentali. Così da riuscire a correggere gli errori che si fa. Quindi sostanzialmente dovrete semplicemente. Rivedervi i vostri game. Capire perché siete morti. Appuntarvelo un attimino. O sul telefono. O da qualche parte. Comunque prendete note per capire. Qual è l'errore che fate. E come migliorarlo. Così la prossima volta che giocherete. Quel tipo di game. In arena. In custom. Quel che sia. Riuscirete a riconoscere la situazione. Ed evitare di fare l'errore. Una cosa che potrebbe esservi d'aiuto. E' un punto di vista esterno. Che vi critichi. Che vi faccia notare dettagli. A cui magari voi. Non prestate abbastanza attenzione. Quindi. Se avete un amico. Che vi può dare una mano. A guardarvi qualche vostro vod. O qualche replay. Potrebbe. Probabilmente aiutarvi un sacco. Perché magari. Lui fa cose diverse da voi. O nota appunto. Dei particolari. Che voi proprio non vi passano. Minimamente per la testa. Anche perché. Diciamo che per notare qualcosa. Di solito. Si deve avere. Una certa conoscenza. Quindi. Se il vostro amico. E' magari più informato. Su delle cose particolari. Vi aiuterà un sacco. Siamo al penultimo punto. Ragazzi. Nonché il più fondamentale. Del video. Ovvero. Quello di affidarvi. A dei coach. O farvi insegnare. Da qualcuno. Che ha esperienza nel campo. Questo è sicuramente. Il modo. Più veloce. Per migliorare. E probabilmente. Anche. Il motivo principale. Per cui avete cercato. Questo genere di video. Un allenatore. Potrebbe fare. Al caso vostro. Come ben sapete ragazzi. Io ho sempre allenato. Bene o male. Oltre ad aver giocato. E i risultati che i ragazzi del team. Hanno ottenuto. Parano da sole. Ma. Come trovare un allenatore in game. Come trovare dei contenuti. Video. In grado di soddisfare le vostre domande. E la voglia di crescere come players. Beh. Probabilmente ragazzi. La risposta per voi. Sarà. Gamer Academy. Dove troverete. Anche me come coach. Tra le altre cose. Il mondo dei videogame. Ti appassiona. Vorresti migliorare. Nel tuo gioco preferito. Diventa un pro player. Partecipando a lezioni individuali. E di gruppo. Dei nostri coach professionisti. Vai su gameracademy.it. E iscriviti alla lista d'attesa. Per essere uno dei primi. A partecipare alla rivoluzione. Del mondo degli e-sport in Italia. Vi devo dire che. In descrizione troverete. Un link. Al sito. Per registrarvi in anticipo. O comunque per sapere. Quando il sito sarà effettivamente. Online e funzionante. Quindi se foste interessati. Solamente anche per dargli un'occhiata. Vi consiglio di registrarvi. In modo tale da sapere subito. Quando il tutto partirà. Vorrei concludere. E riprendere il discorso ragazzi. Ricordandovi. E dicendovi. Che un coach. È una persona che di solito. Ha molta più esperienza di voi. Quindi. Avrà concetti. Ben definiti. Chiari. Che vi potrà trasmettere. E a cui far riflettere. Magari sono. Elementi del gioco. A cui neanche prestate attenzione. A questo. Nuovo mondo. Diciamo di. Informazioni. Che sono presenti nel gioco. Perché ragazzi. In questo gioco. C'è molto di più. Di quel che si vede. Non è semplicemente. Un. Mettere con. O fare un edit. Boom. Sparato. O shit on. No. Non è così che funzionerà. C'è molte. 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 Più cose dietro. Quindi. Se foste interessati. Sapete cosa fare. Decimo. E ultimo punto ragazzi. È usare il mio. Codice creatore. RFX. Trattino. Basso. Lox. Non so se lo sapete. Ma vi aiuta molto. A raggiungere. Velocemente. I vostri obiettivi. Quindi. Vi consiglio. Caldamente. Di usarlo. Quando shoppate le cose. Inoltre. Fate il video. E mandatemelo su Instagram. O per email. Così a fine mese ragazzi. Avrete la possibilità. Di essere estratti. Per vincere. Un allenamento con me. Più informazioni. A riguardo. Saranno. Divulgate. A breve. Quindi. Attivate la campanella. Perché così. Almeno. Quando esce il video. A riguardo. Non ve lo perderete. Riporterò. I vecchi contest. Per l'allenamento. Con. Una piccola differenza. Che sarà. La possibilità. Di vincere. L'allenamento. Senza essere estratti. Ma. Vi spiegherò. Tutto. In un altro video. E. Per il resto. Ragazzi. Vi direi. Di lasciare un bel like. Se vi fosse piaciuto. Commenti. Se ne avete. Iscrivetevi al canale. Se non l'aveste ancora fatto. E. Lasciate un video. Eh. E. Quindi. Vi ricordo. Di attivare la campanella. Per non perdervi. I prossimi video. Buona giornata a tutti. E ci si vede. Ciao raga. Bella. Bella.